Speciale elezioni, interviste e commenti sulle prossime elezioni. Ben ritrovati agli amici di Radio Veneto 1, un nuovo spazio di approfondimento per presentare candidati e programmi in vista delle elezioni politiche del 4 marzo 2018. Nostra ospite in questa occasione, Sonia Fregolent. Bentrovata, grazie per essere con noi. Grazie per l'invito. Sonia Fregolent, lo ricordiamo rapidamente, è candidata per la Lega Nord e il centrodestra nel collegio uninominale Veneto 2 del Senato. Quindi in buona sostanza il collegio delle aree di Montebelluna e Castelfranco in provincia di Treviso, poi della provincia di Belluno e c'è anche un appendice veneziana, Scorzè, Martellago, quell'area lì. E poi è candidata anche in alcuni collegi plurinominali, sempre per il Senato. Sonia Fregolent è sindaco di Sernaglia della Battaglia e quindi molti di coloro che ci ascoltano, ci vedono, probabilmente la conosceranno già e soprattutto per questa veste. Ma le chiedo anche una brevissima autopresentazione, visto che questo è il nostro primo appuntamento, per presentare a chi magari anche in altre zone del suo collegio non la conoscesse. Sì, allora io sono sindaco del Comune di Sernaglia al secondo mandato, eletta quindi nel 2009, la prima volta riconfermata nel 2014. Precedentemente sono stata assessore sempre al Comune di Sernaglia dal periodo 2004-2009. Ho una laurea in giurisprudenza, un master in management della sanità, lavoro attualmente presso, o l'ora adesso, ULS 2, marca trevigiana e precedentemente ULS 7, Pieve di Soligo. Che cosa dire, ho un bimbo di 16 mesi e amo particolarmente la lettura, il nuoto e stare con la mia famiglia. Ecco, allora partiamo proprio dalla famiglia, dal bimbo, come diceva, dal suo figlio 16 mesi, quindi da poco è diventata mamma. Ecco, questo è anche un tema molto presente nel dibattito, nel dibattito politico, un'esigenza molto sentita, proprio quella del sostegno alle famiglie e in particolare ai genitori con figli. Sì, è un tema importante, fondamentale, io credo nel nostro paese, dove il problema della denatalità è evidente e dove lo Stato italiano investe soltanto l'1% del PIL. Quindi, di fatto, le famiglie che vogliono fare figli non sono allo Stato in nessun modo aiutate, supportate o comunque considerate, quasi che fare figli sia considerato un privilegio di chi se li può permettere o comunque quasi che se lo possono permettere soltanto quelli che paradossalmente hanno un reddito molto basso perché ottengono una serie di esenzioni che a due persone normali con uno stipendio normale queste esenzioni non vengono riconosciute. Faccio un esempio, attualmente l'assegno di maternità viene percepito da chi ha un reddito di sé inferiore ai 7.000 euro. Due persone, ripeto, dipendenti con uno stipendio normale non avranno mai accesso a un assegno di maternità. La famosa classe media. La classe media non avrà mai accesso. Ecco quindi che nel programma con cui ci presentiamo ai cittadini c'è l'istituzione di un assegno di 400 euro mensili per tutti coloro che dovessero avere una bimbo quindi dai zero, da erogare dai zero ai 18 anni e ovviamente per quei cittadini che siano residenti nel territorio italiano da almeno 20 anni. Questo assieme al supporto agli asili nido aziendali e all'anche realizzazione di asili nido che poi dovrebbero essere gratuiti per sempre in questo caso con alcuni limiti ovviamente di reddito ma tenuto conto sempre della classe media che poi è quella che utilizza gli asili nido perché mettere un accesso all'asilo nido bassissimo quando chi ne usufruisce o debba usufruirne sono due persone con un lavoro è paradossale. Assieme a questo il fatto che i prodotti per i bimbi debbano avere i va zero quindi non solo lettini, seggiolini, passeggini ma anche il latte, i pannolini, gli omogeneizzati e quello che serve per un bimbo. E ultimo ma non ultimo il fatto che debba essere estesa l'importo per l'assegno di maternità facoltativa attualmente l'assegno di maternità facoltativa è il 30% dello stipendio e spesso e volentieri si costringono le persone a scegliere se rimanere a casa col proprio bimbo oppure andare a lavorare. Quindi io direi che bisogna ritornare indietro e non pensare che i bimbi siano un privilegio ma devono essere una risorsa sia quando sono piccoli sia quando sono un pochino più grandi perché magari una volta istruiti ce li facciamo fra virgolette rubare dagli stati esteri che sanno apprezzarne le qualità e sanno apprezzarne la formazione e noi ce li facciamo portare via. A proposito di famiglia Sonia Fregolent le chiedo sull'estremo opposto. Abbiamo parlato di natalità bimbi, mamme, la necessità anche di facilitare questo scambio appunto tra lavoro e vita evitando di dover scegliere tra fare un figlio e mantenere il proprio lavoro la propria professione. Poi c'è come dire l'estremo opposto della vita ovvero gli anziani. Ecco bisogna intervenire anche lì lei da sindaco, da amministratore locale avrà sicuramente affrontato il problema molte famiglie alle prese con anziani alle volte anche non autosufficienti Certo, le famiglie sono in difficoltà, gli anziani anche abbiamo però come Veneto una buonissima struttura di servizi sul territorio che dovrebbero essere assunti anche a modello da parte del resto d'Italia perché abbiamo un sistema molto integrato tra il sistema sanitario e il sistema sociale che tende a dare risposte. Sicuramente si può fare di più soprattutto per quanto riguarda la costituzione ad esempio di un elenco magari di badanti certificati o comunque di persone qualificate nell'assistenza in modo tale da evitare di sentire anche situazioni piuttosto brutte di badanti che si sono approfittate o che hanno maltrattato gli anziani ma io direi anche di servizi strutturati che possano andare incontro a chi non vuole lasciare la propria casa perché poi noi veneti siamo molto legati a casa nostra e quindi non sempre è facile decidere di lasciare la propria casa per una struttura quale può essere una casa di riposo Grazie allora a questa sintetica esposizione dei temi riguardanti la famiglia a Sonia Fregolent candidata al Senato per il centrodestra della Lega Nord grazie per essere stata con noi Grazie a voi Speciale Elezioni Interviste e commenti sulle prossime elezioni Grazie a tutti